ciao elena siamo qui con romina e figlia o ciao ciao seconda sessione posso dire quello come si intitolava la prima si pensano i vampiri bampers iniziamo il viaggio il numero 2 5 4 3 2 o no sì allora mi appare romina su questa è un come se fosse un disco per terra come quelli delle discoteche di una volta pavimento no 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 proprio tipo la pista un cerchio una pista ok però che gira quindi un disco che gira lei in piedi lì e tutto intorno a semicerchio ci sono queste sedie questi spalti sono una fila dove ci sono tutte le interferenze che l'immagine che mi fa vedere proprio che non c'è neanche più bisogno che loro vadano verso romina ma lei su questo cerchio disco e quando gira avanderà loro riescono a interferirla quindi sono riuscita a metterli sono riusciti a metterla in uno schema dove praticamente quasi va in automatico a farsi interferire non so come dire no proprio questo meccanismo in cui si è cacciata a livello anche con interferenze mentali di esigenza direi le interferenze mentali una la chiamo esigenza e poi c'è l'altra che viene la parola titico l'immagine è come ipnosi anche ipnosi ipnotica il nome se ci fosse un uno schermo blu quadrato che che fa sì che lei rimanga sempre con gli occhi lì proprio ipnotica no ma andiamo con calma ti dà l'autorizzazione sì 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 come in questo momento allora c'è allora le sue immagini le due immagini così quelle davanti le interferenze quella su questo disco poi c'è lei fuori che mi mostra tutta agitata mi mostra queste queste due immagini per dire aiutami a uscire di lì tirami fuori da lì aiutami a tirarmi fuori da lì vibrazione di romina la mantiene la mantiene a fatica a 12 miliardi nel senso che è come se in eterico e come se facesse questo gesto di continuo con tanta fatica può arrivare anche a allora senza stesse tranquilla diciamo centrata e rilassata potrebbe arrivare a 57 miliardi consapevolezza 138 ha avuto dei picchi anche a 196 ma come se fosse confusa e questo la oscura ps 36 vite precedenti 2.201 cervello questo momento 9.5 nome del nuovo progetto aggancio definitivo entità e terri che c'è questa mantide si fa vedere molto grossa molto grande potrebbe corrispondere a tre metri di altezza e si mostra come la coordinatrice tutte le interferenze di romina vabbè poca roba una stupida mantile se se no certo ma no no ma niente di che e poi c'è ci sono due queste fossero il corpo di formica ma senza le zampe da secondo universo con due mantelli bianchi e poi c'è un altro insettoide se poi c'è una specie di tra una via di mese tra un granchio un'ara costa io direi sempre dal secondo universo è come se si tenesse agganciato dalla coda al secondo universo e con le che le interferisce romina nel primo un crostaceo se qui due insettoide un secondo universo poi cos'altro propone il menu di romina poi c'è geus che come se fosse seduto davanti a un computer e continua a schiacciare bottoni ma ci sono due uomini del tempo che si assicurano sempre che lei non veda quella zona della sua vita che potrebbe essere molto utile è come se fossero delle quinte sempre chiuse come se fossero aperte solo dal lato sinistro ea destra le quinte fossero sempre controllate chiuse da questi due tenute chiuse da questi due uomini del tempo e dietro le quinte di destra c'è tutta la vita di evolutiva di romina uomini del tempo 2 se poi poi ci sono credo interferenze mentali che ho visto prima quindi ipnosi esige ipnotica ed esigenza esatto e se neanche un'altra allora è rappresentata da una da una donna anziana che guarda dall'altra parte non c'è con le spalle verso romina guarda dall'altra parte è come se prendesse dei figli di immagini e di scene di vita quotidiana ideali ok quindi come se la chiamerei proiezione nel futuro ideale questo livello è questa è livello tra 5 e 6 ipnotica ipnotica livello 3 e l'altra 4 esigenza 4 va bene da quando fai questa cosa con me come consideri questo caso di romina eccezionale comune raro comunissima dopo una seconda sessione tu dici per questo uguale si è abbastanza comune nel senso sanno è il modo con cui le interferenze interferiscono le persone ed è molto comune ed è tipico di quando le persone non riescono agganciare quelle azioni per uscire dal meccanismo quindi quando le persone non riescono a andare oltre alcune azioni che le riportano essere interferite nuovamente o interferite ecco impianti c'è un grosso tasto centrale come se fosse un grosso tasto con la base nera e sopra rosso no come se fosse un tasto un pulsantone un pulsantone in mezzo alla testa che viene tenuto schiacciato dalle entità mentali le hanno poi messo un filo che parte dal dorso di una mano fa tutto il giro prova dietro la cervicale arriva sul dorso dell'altra mano e su questo filo sono attaccati tutti come se fossero degli aghi che vanno verso l'esterno su cui passa un un impulso elettromagnetico di informazioni ok e quindi quello che fanno con questo è proprio di social e faccia descrivere allora fanno come se ci fosse una barriera che divide romina dalle percezioni esterne ma non impedisce alle energie esterne di entrare come se la separassero da questa sensazione ok in maniera tale che lei non possa capire nel meccanismo e imparare a gestire tutti questi movimenti energetici ecco basta che si sono delle impianti che causano per i problemi economici costanti allora lo vedo molto legato al poco ma la poca azione la poca dinamicità proprio nell'agire no è come se romina si sentisse più tranquilla nel nel suo menage solito casalingo nella sua comfort zone e in quella direzione e con questa energia con queste vibrazioni il fatto di non renderla economicamente libera e stabile è un diciamo uno strumento che le entità continuano ad utilizzare per farla rimanere in quella situazione lì questioni legali è la stessa cosa si è la stessa cosa è un altro aspetto ancora quindi sia a livello economico sia a livello legale in maniera allora a livello economico non ha diciamo le possibilità economiche per diciamo muoversi eccessivamente e quindi rimane di a livello legale sono comunque situazioni dove lei deve prestare attenzione e quindi distissipa le sue energie verso queste situazioni quindi un ulteriore meccanismo per tenerla bassa problemi con vicini è tutto sempre quello proprio come se vibrando così lei cogliere ecco questo posso fare come esempio viene si lo descrive molto bene come se ci fosse una fontana che quando è piena crea diciamo carico è un carico di acqua addosso che romina deve portarsi no quando è vuota invece romina libera di poter vivere con le vibrazioni più alte questa fontana si svuota con questo cilindro che dall'interno sale e salendo butta fuori tutta l'acqua e la tiene fuori ok lei nei momenti in cui riescono interferirla e quindi da lì poi continuano ad interferirla e quando il cilindro scende quindi quando le sue vibrazioni sono basse questo cilindro scende fino a superare scendere oltre il livello da cui può entrare l'acqua entra tutta l'acqua e tutto il carico la sovrasta amici parenti stessa roba sì 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 poi ne parte una e le parti maniera da tenere l'acqua sempre pesante in maniera tale che lei faccia fatica a tornare su spese guai uguale causa esoterica delle emicranie croniche ma lì è un collegamento specifico con questa sto guardando se è attraverso il dente allora vedo questo collegamento con questa siccome la mantide con questa grossa mantide come se avesse un filo di acciaio ok e glielo vedo puntato così così è come se passasse sempre un impulso da quella bacchetta di metallo da quel filo di metallo inficcato così stavo guardando per il dente non c'entra nulla non c'entra nulla con il mal di testa una causa esoterica c'è stata una piccola un piccolo stop nell'uscita sentente del giudizio prima che gli altri si sviluppassero e poi si sono sviluppati e all'anno incastrato lì lo vedo fermo ncs ipersensibilità agli odori sensibilità chimica multiple ncs causa esoterica allora è come se lei avesse dei grossi tubi dei grossi tubi delle grosse canaline che vanno dall'esterno all'interno del suo corpo ok e vanno in una sola direzione quindi tutto ciò che suoni vibrazioni odori entra liberamente nel suo corpo ok quindi lei percepisce tutto questo ma è come se non ci fossero degli altri tubi cini delle altre canaline per far uscire diciamo per far uscire queste vibrazioni questa energia quindi non è in grado di modulare l'entrata e l'uscita delle vibrazioni di suoni odori e vibrazioni in generale ok di tutte le cose quindi lei non è in grado di modularne è come se ci fosse solo l'entrata e non l'uscita una gestione e neanche la gestione esatto c'è entrata appunto scusa l'emicrania e quindi qual è la causa è l'interferenza di questa grossa mantide un filo metallico che punta così e passa degli impulsi incubi ma rispetto a prima si accorge in tempo quando cercano di farle un abduction quasi sempre devono questa cosa la vedo molto migliorata rispetto all'altra volta riesce a ad accorgersi quando cercano di farle un abduction per riuscire a fare un abduction devono proprio trovare una strategia incredibile ci sono riusciti dall'altra volta un paio di volte a fare le abduction se no si accorge durante la notte si accorge il risvento sì con fatica ma si accorge ecco ancora diciamo le teme ecco diciamo che c'è questa grassa questa grossa componente col fatto che lei non ha filtri nel ricevere ma arriva tutto e i temi molto ancora l'esterno e anche per questo rimanendo sempre nella sua spazio di routine casalingo diciamo domestico si sente più tranquilla si ritrova degli amatomi al risveglio si si perché fa le grosse lotte e l'unica che tu sappia elena da questi anni che ha questi problemi no 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 sono abbastanza comuni comuni orari comuni depressione se li è più allora la sua depressione quasi più come se fosse una consapevolezza del non movimento quasi come se fosse più la ps che le fa vedere che così non va so come dire se tu continui a crociolati nella tua routine e nella parte domestica in questa maniera non va ecco diciamo che è la ps che le fa vedere allora se nel senso che lei percependo che si sente depressa sa benissimo che c'è qualcosa che non va ok quindi questa sensazione gliela fa percepire la ps altrimenti se fosse tutto assopito lei non percepirebbe la depressione ok ti ha visto benissimo nella mia 30 anni in realtà lei sente la depressione questa è la ps che le dice c'è c'è qualcosa che non va muovi ti muovi fai delle azioni ecco ok la ps che è come se da qualche parte riuscisse ad arrivare a da di quella luce per dire qui c'è qualcosa che non va quindi non ha fatto positivo se vogliamo si è un campanello d'allarme il campanello d'allarme per eccellenza è l'attacco di panico ha fatto quell'allarme del negozio che viene sbagliato e l'allarme della ps che dice dell'anima che dice fa qualcosa non so più come dirtelo essi esatto esatto problemi epatici c'è un accumulo stasicando di capire se è collegato a qualche elemento che lei diciamo metà introduce col cibo o se invece è un accumulo più di stasi emotiva no è più un accumulo di stasi emotiva quindi è come se ci fosse un accumulo nel fegato di a eccolo eccolo tutta la parte rispetto al padre si tutta la parte ereditaria è tutto accumulata di tutta questa non avere il boccone dovuto ok c'è proprio una stasi lì nera come se ci fosse una colonna di energia nera che comprime sul fegato ed è data proprio da tutta questa situazione tv non poter avere il boccone dovuto che è quello ereditario del padre intestino intestino invece lo vedo più allora dovrebbe per un po come se vedessi intestino che è un po infiammato e affaticato perché come se ci fosse si fosse creata una specie di strato sulla parete dell'intestino vedo in eterico che fa sì che lei non riesca ad assorbire tutti gli elementi necessari dagli alimenti a metabolizzare bene gli alimenti e quindi si irrita e non funziona correttamente ok dovrebbe quello che mi viene da dire vedo tipo avere tanta acqua mi fa vedere un po tipo allora limone e vinta acqua e menta e limone tanto tanto e diminuire e fare più mi fa vedere di utilizzare per un po tante cose verdi mangiare tante cose verdi clorofilla sì sì esatto apatia apatia e anche no in questo caso la vedo come il meccanismo di zona di comfort quindi tenerla sempre a un certo livello di azione che è praticamente nullo sempre nello stesso campo di azione maniera tale che lei non possa fare delle cose che la portano verso il risveglio causa esoterica elena che in questo momento romina mi scrive di chiamare nel cinema xy e quindi è più importante chiamare nel cinema piuttosto che ascoltare la causa esoterica di alcuni fatti che mi ha messo noi siamo qui per lei non per il cinema il cinema serve a lei al limite e le persone che deve chiamare non sono così importanti per la sua storia causa esoterica fa entrare le cose fanta sta facendo fare entrare altre cose non riesce a la soluzione del problema fa paura qua o si muove o rimarrà tutto in staglio come tema paranoie e tendenza a rimuginare allora lì è proprio legato ad alcune situazioni in cui lei si è rimessa nuovamente diciamo dove gli uomini del tempo hanno sono ben assicurati che lei rientrasse perché sono proprio situazioni con messaggi molto espliciti di che la portano a rimettersi in questi meccanismi di paranoia e rimuginare proprio proprio anche frasi specifiche che lei legge o sente che fanno sì che aumenti la sua paura per l'esterno delle cose che accadono all'esterno e quindi lei proprio per tenerla ferma e non farla muovere temere comunque l'esterno allora rispetto a prima che proprio aveva la paura anche delle persone adesso è proprio il sistema dati avanti è proprio il adesso la paura delle persone non c'è più e quindi sono riusciti a far sì che lei adesso in questo momento abbia paura delle energie del livello vibrazionale esterno quindi apriamole queste porte del cinema tanto agoniale chiamiamola matrigna con cui ci sono un sacco di litigi eccetera l'ex mare il secondo figlio dimmi solo se vengono no sì 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 la matrigna avviene ma vorrebbe metterebbe ecco beh viene per imparare umilmente sennò va via ma non mi interessa niente imparare via via secondo figlio viene per imparare o va via si ha paura resta si resta ex marito se 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 l'ex marito viene è come se se viene interessato a vedere cosa fa su ex moglie e suo figlio è come se si sentisse dipendente come se ci fosse un legame che di cui farebbe anche a meno ma non perché non ci tenga suo figlio o comunque che voglia del male alla sua ex moglie ma questo che farebbe a meno di questo legame perché è come se fosse indissolubile e ne farebbe a meno quindi c'è questa cosa che non capiscono tutti come se ci fosse un filo che c'è a prescindere o credi lega ed il figlio che è qui presente e che nell'altra sessione era la fiamma viene sì sì come lo vedi allora in maniera molto l'accudente poi le mette il becco nel senso che non conosco noi è ma quasi sta in piedi a dire alla mamma come si deve mettere dove si deve sedere e quindi adesso io gli sto facendo vedere che deve stare seduto e neutro e solo ad ascoltare e ad osservare e la fiamma ancora allora non io non vedo più l'unione delle due ps vedo un livello di anima a fine molto alto e c'è un ribaltamento di ruoli nel senso che il figlio tende ad accudire la madre e quindi a fare papà della mamma perché questo ha spazzato via lo status di fiamme ma no 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 non ha spazzato via dico ti sto descrivendo come come vedo adesso e questa cosa la vedo molto c'è quando vado a vedere le loro due ps ok non sono più unite come prima le vedo a livello di anime a fine quinto livello molto alto gemelle si 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 sono staccato non sono più fiamme da quando il figlio è dato via un mese mi sembra c'è ma prima ok questo è stato molto utile il figlio di anime vuole desidera una fiamma relazione il figlio principalmente ma questa apprezzione cioè si è trovato molto bene a stare via quel mese se senta suo agio però a questo senso di proprio questa apprezzione rispetto alla mamma quasi come se temesse e che le morisse ok c'è potenzialmente grezza o meno una fiamma per il figlio è una fiamma per lei la madre ora che non lo sono più allora prima non poteva esserci no no bisognava retrocedere adesso è stato avvenuto questa cosa è venuta così come no scusa adesso come no adesso può esserci come no e allora c'è stata per il figlio quando lui era via la ha incontrato la fiamma e stato momento che era fiamma con qualcuno nel paese dove era ma poi non ha colto la cosa e adesso in questo momento non c'è la fiamma c'è nessuno dei due fatta ok neanche grezza per assurdo c'è una fiamma grezza per la mamma a lui no la fia la fiamma grezza per la mamma c'è una fiamma grezza per la mamma che tanto grezza è una situazione molto incastrante perché a livello eterico io vedo loro due e vedo la loro casa quasi come se avessero fossero riusciti a creare una bolla energetica molto spessa e devono proprio muoversi fare delle azioni all'esterno per poter rompere questa bolla energetica perché in questa bolla energetica e che è bianca energia bianca quindi loro la sentono molto accudente ok ma è molto incastrante limitante perché possono rimanere solo lì in questa situazione quindi il figlio che fa da papà alla mamma la mamma apatica e depressa ok chiusa dentro questo e questa fiamma grezza della mamma che lei si immagina quindi inizia a crearla però a cui la mamma dalle spalle quindi è proprio devono proprio uscire devono andare uno da una parte uno dall'altro per disincastrarsi va bene e a tre persone negative e le ripulisce facciamo le di tutti e due insieme in questo punto e le ripulisce senza volerlo persone o luoghi e poi assorbe tutto e stamano sì sì perché entra entra tutto e rimane dentro no come diciamo prima che non riesce è quella è quella fontana che si riempie c'è di nuovo questa paura non più delle persone come dicevo ma delle vibrazioni esterne della vibrazione delle energie esterne quindi la paura è quella perché questo purtroppo c'è quel vizio che lei ha io lo chiamerei così a questo punto questa dipendenza dal proprio da internet e dai social ok che è l'idea che è perfetto per le interferenze per tenerla incastrata lì e questo fa sì che lei non riesca non ha non ha imparato a buttare fuori quindi percepisce tutto ha rimesso in moto quel meccanismo che diceva che aveva da bambina diciamo è vulnerabile come va come se fosse una bambina è tornata quella vulnerabilità lì ama il pollaio dei social dove si litiga e basta non si impara niente nessuno aiuta nessuno non ci sono informazioni che circolano se non grandi litigi e si becca tutto e poi ha messo e salta continuamente fuori una parola vittima vittimismo capitano tutte lei ma come il suo caso molto comune se non ha che niente di nel senso se me ne capita un giorno fuori da normale meccanismo è capitato io non vedo l'ora di incontrare qualcuno per strada che conosco per raccontargli quanto sono stato sfortunato io non vedo l'ora di eliminarmi in questo problema e basta non lo sape nessuno non mi interessa farlo sapere a nessuno mi interessa solo eliminarlo a lei non interessa eliminarlo interessa dirlo a tutti nei gruppi social telegram facebook alle amiche per strada alla vicina di casa a questo quell'altro è il figlio se si allora è come se non si ma diciamo la sua staticità il suo non muoversi è anche verso il non impedire che entrino cose ok e entrando cose come se oltre a non impedire che entrino cose non fa neanche modo di spingerle fuori ma diciamo le racconta racconta come se è un meccanismo molto strano è perché è come se lei le dicesse per vedere se dall'esterno qualcuno la può aiutare no ok quindi avere attrarre comunque persone verso di lei chiedendo aiuto ma tutte le volte che va verso l'esterno entra tutto entra tutta l'energia quindi questo è anche un circolo vizioso ok e il fatto di poter essere vittima quindi di continuare a parlare dei problemi dei suoi problemi due cose succedono primo continuando a parlarne appunto rimuginare ritirali fuori gli dai energia e aumentano e secondo attiri le persone verso di te quindi questo è il modo per tenersi le persone inconsciamente ovviamente ok non è sui social solo su youtube ed è su telegram vabbè non cambia niente telegram sono socialiste telegram è un social di si è infatti e questa dinamica uomo donna è proprio quello che ho visto prima no adesso c'è questo meccanismo questa bolla adesso il figlio che gli fa da padre c'è sempre come se l'altro c'erano gli uomini che la vampirizzavano essi giro di vampiri si era convinta che doveva sangue se io lo vedo legato al padre nel senso il meccanismo che lei aveva col padre in famiglia quindi sempre cercare una figura maschile che per lei è più grande c'è il maschio è più grande è accudente più grande quindi la femmina più piccolo e maschio più grande e quindi è proprio legata a questo retaggio la fiducia nella figura maschile e nell'affidarsi ed è qualcosa che vedo che gli è stato tramandato proprio dalla famiglia lei da piccola sempre saputo questa cosa i nonni il padre e quindi si incastra in questo meccanismo con l'ex marito c'era questo meccanismo e secondo me è quello che poi li lega tutti assieme anche se sono separati c questo legame che non è che fanno fatica a tenere lontano quindi poi diventa dipendenza che sia per vari motivi però è come se non riuscissero a sbloccarsi anche ed è come se in comune l'ex marito avesse anche lui questa cosa però al contrario no quindi l'uomo è più grande della donna e quindi è come se si dovesse prendere cura vabbè portale auguro velocemente due aborti spontanei se non sono rincare se non ci sono incarnati arrivano sono non arrivano ma si sono reincarnati uno subito l'altro dopo un po ma si è in carna sono in casa tutti e due quando succede così vedo come se ci fossero dei cusci vuoti ma fosse solo guscio vuoto a perdere ci sono altri che accorrono al richiamo di tutte le vite di tutte le vite di tutti di tutte le generazioni di romina se c'è questo che potrebbe essere un bisnonno o nonno o ancora più in là che faceva utilizzava delle tecniche di guarigione allora faceva aveva abbastanza forti poteva anche essere tipo che facesse degli esorcismi ed è arrivato allora c'è questa cosa strana come se lui volesse tirare via questa volesse aiutare romina tirandogli via è come se volesse sfilargli dal corpo questa ipersensibilità alle vene alle vibrazioni a tutte le energie ok ma non può non riesce va bene io li sto facendo vedere che non riesce perché quella è la scelta di romina qua e la scelta di romina ok ok adesso praticamente l'analisi è finita faccio questo discorso alla ps di romina cosa è venuta a fare qua qual è veramente l'obiettivo di un'anima allora dice questo è l'input che romina ha colto che ne ho dati altri 3 o 4 tra dall'altra sessione a oggi e questo invece l'ha recepito gli altri no per muovere per muoversi proprio muoversi in tutti i sensi fisicamente con le azioni proprio muoversi e quindi ho approvato quali tentativi questo l'ha colto e quindi oggi siamo qua perché lei l'ha colto nuovamente non c'è altro da fare che muoversi cambiare tutte le abitudini a questo punto tutte cambiare tutte le abitudini la ps dice potrebbe essere utile per come è fatta romina di passare a step quindi rivoluzionare tutte le sue abitudini e per un po se se più se potrebbe essere più semplice che lei che per un po creasse altre abitudini non lo so nelle immagini che mi fa vedere è uscire la mattina e andare a bere il caffè nel solito bar in maniera tale da crearsi diciamo un gruppo esterno e non su c'è virtuale con cui intraprendere delle relazioni elefono della borsa o telefono a casa telefono a casa decisamente fatte delle cose col telefono a casa provateci poi per esempio sì andare ok anche in spiaggia assolutamente va benissimo se vicino al mare va benissimo anche lì andare sempre nel solito posto dove magari vede sempre le solite persone e iniziare a fare no relazioni esterne proprio per cambiare i meccanismi e poi anche dei momenti sempre fuori da sola un gruppo di telegram in meno al giorno o via 1 oggi è esatto infatti anche esatto una cosa del genere sì se si può servirle tenere un diario c'era una sessione qualche giorno fa pubblicata caro diario dove annotare le cose fatte quindi di fare esatto da miglioramenti se un quadernino anche scriversi magari domani gli obiettivi domani o di oggi no anche piccole cose e farle si è anche un quadernino esatto questo può essere molto utile sì sì proprio creare dei micro periodi di altre abitudini e cambiarle sempre no in questo momento elena romina è potente e speciale ai poteri è unica no è uguale agli altri fatti solo per dire potente come lo siamo tutti perché siamo tutti forti e creatori abbiamo tutto dentro speciale no perché siamo tutti fatti nella stessa maniera e tutti possiamo fare le stesse identiche cose creare la nostra realtà è anche vero però che nessuno lo sa di essere potente nessuno lo sa di essere speciale lei lo potrebbe diventare ma in questo momento non lo è essi infatti il discorso è quello nel senso di abbiazza è ingabbiata in quello che gli arriva dall'esterno cioè è cambiata all'interno dalla spinta dell'esterno ha delle caratteristiche che potrebbe usare in maniera corretta le usa come uno scuola pasta l'acqua dentro ma se ne va tutta la sua energia esatto solo che l'acqua se ne rientra anche inquinata cioè con le interferenze della degli altri è sì tutto prende tutto all'interno ma lei può diventare potente speciale assolutamente nel momento in cui sarà potente speciale non lo dirà nessuno perché non le interessa davvero potente speciale in quel caso se e essendo potente speciale sarà nel posto in cui vuole vivere con una persona accanto con cui vuole stare possibilmente il grande la grande 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 banco di prova che è la fiamma non è una maggianata è un grande banco di prova non è una semplice storia grande prova verso il quale nel confronto dei quali bisogna essere pronti e non sapevoli di volerlo davvero assolutamente si qual è la scelta di romino e la scelta di romina è quella di tirare via tutte le interferenze nuovamente e muoversi in questo momento con queste condizioni in questo momento nel cui ora la scelta è questa muoversi sì infatti adesso è al cluster si è aperto come portare definitivo si è aperto un come se nel muro si creasse un barco e viene tutto risucchiato dentro ma chi lo fa lei lei si è avvicinata e si è creato mentre lei si avvicina ascolta bene romina non scrivere non è importante scrivere entra tutto dentro è sicura tutto se si l'ha fatto sì o ci tiene qualcosa io mettere qualcosa così non è un po a darmi un tono no 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 risettiamo tutta la situazione questo è già un gioco se è già movimento gioco sentirsi la vittima di tutto e tutti i problemi del mondo è un gioco settiamo il gioco rifacciamo il gioco facciamo un altro gioco per forza se non siamo fuori dal gioco è se il nuovo gioco di romina il mio suggerimento è la consapevolezza più ampia più alto questo è il nuovo gioco il vecchio non me lo ricordo neanche più quindi c'è un meccanismo diverso una scacchiera diversa un ingranaggio diverso il vecchio non ce lo ricordiamo neanche più ha tolto questi contratti non dico che c'era altri ma impone al proprio gioco nuovi meccanismi nuovi canali esatto esatto non per questo la biglia va da un'altra parte in un altro solco prima girava in tondo faceva più o meno sempre lo stesso giro con labirinti vari adesso la biglia si piglia un solco nuovo vergine e va in un'altra direzione qual è la scelta di romina proprio andare nell'altra direzione in una nuova direzione 9 euro questa direzione la direzione va verso il movimento allora quella vecchia era come una strada sempre dritta uguale che con dei muri chiusi no quindi ha coperto sempre dritta uguale quella sparisce e c'è questo nuovo sentiero che ha tante curve ed è tutto all'aperto questo proprio ad indicare il movimento e la per il movimento all'esterno esatto assolutamente l'esterno l'esterno bene la nuova creazione di romina adesso c'è il vero potere di romina si esplica adesso qui nel cluster con una creazione è una creazione firma è una creazione sigillo è una creazione c'era l'acca le qui giura se stessa stabilisce con se stessa nuove regole e quindi nessuno può venire se non lei a mettere nuovi contratti se non lei se lo vorrà ad eterno ma per sempre se ha fatto facendo una spirale con questa specie di come se fosse un tubo led quindi illuminato no questa luce azzurra che poi si diffonde appunto appena arriva alla cima poi si diffonde in tutto il cluster e a forma ti è detto scusa spirale spirale avanzano vediamo se c'era qualcosa è lavata la sera quasi rifatto completamente completamente quasi se cosa vedo allora è la parte dell'avatar proprio che mancano e guardando adesso la prima volta che guardo mancano dei tasti anche sulla tastiera in questo caso ma forma di cosa pupazzo uomo donna è come se avesse tipo un copricapo quelle colonne che mettevano gli indiani d'america con le piume quindi un indiano d'america diversi anche vestiti tipici così lo teniamo no chi lo dice no romina romina sicura che non lo dica tu no non dice romina come lo dice benedetto lo teniamo lei ha detto no e si è messa ad aprire il portale definitivo come ha fatto prima creando un barco sul muro ok tutta la sua postazione è stata aspirata dentro questo barco mette anche qui una d'eterno sì l'ho fatto come quello di prima ha funzionato bene e lo mette anche qua ok questa potrebbe essere una cosa che lei può fare per aiutarla ad allenarsi a tenere le vibrazioni alte creare un aspirare con un filo di led è come se si allenasse concretamente a creare il suo ad eterno anche diciamo etericamente ok facendolo nella materia è un allenamento quindi come se potesse creare in giro per casa queste tipo delle lampade fatte a spirale di led aggancio definitivo il progetto c'è ancora no c'è un nuovo progetto in questo momento no l'amantide c'è ancora no 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 formica concetto zeus uomini del tempo che chiudevano le quinte ma le quinte sono libere se esigenza ipnotica proiezione futuro ideale ci sono ancora ma le abduction o i tentativi di abduction li ha annullati se gli impianti ci sono no ok non ci sono più i contratti ma potranno essere ancora alcuni dei sintomi che ha elencato di tanti sintomi che ha elencato allora vedo questa questa domanda che mi hai fatto molto particolare perché come se è difficile da descrivere e come se le interferenze cercassero di riprodurre questo succede per tutti e lo vedo in questo momento che mi hai fatto la domanda sono andata a vedere si vede questo meccanismo particolare che non avevo mai notato dopo la sessione dove tutto è pulito le interferenze cercheranno di riprodurre i sintomi ma non è fisico è come se li riproducessero cazzo di riprodurli con le vibrazioni o che con l'energia con i loro meccanismi di riproduzione con dati e se la persona lo aggancia gli si ricrea il sintomo anche fisico altrimenti si riesce a non di agganciarlo a non ricollegarsi il sintomo non si ricrea messaggio di romina a se stessa adesso basta adesso c'è l'azione adesso ti alzi in piedi e inizia a fare il primo passo verso l'esterno fuori da quella porta verso il sentiero a curve verso il sentiero ondulato nell'esterno adesso basta messaggio di romina al figlio presente non l'altro da oggi in poi decido io per me ti chiederò di non darmi neanche più consigli messaggio di romina alla matrigna sai comunque quello che è mio mi spetta anche a livello energetico lo vedo chiaro forse il caso che tu smetta di interferire perché tanto non servirà a nulla solo a perdere tempo per tutti all'ex marito ci sono grata per tutto quello che hai fatto ti sono grata per i nostri figli ora puoi essere libero grazie la bolla energetica che cento nella casa c'è anche la specie di che ricorda un po un sacco di plastica e che tiene lontano il futuro di una e anche dell'altro c'è ancora no no adesso romina e in piedi sull'uscio di casa che guarda verso l'esterno e dall'uscio di casa passi parte il nuovo sentiero a curve verso nell'aperta all'aperto e lei è pronta a fare il primo passo ok nuova vibrazione 228 miliardi vuole alzarla 228 usi gli stessi numeri c'è solo una strada no non è vero c'è 282 no ma non ci piace 28 28 22 è una scelta la scelta di romina può anche scegliere di no se lo sta facendo con calma non a 345 529 6 38 7 48 8 22 è tutto molto più chiaro fuori molto più limpido e logico è semplice consapevolezza 201 ps 68 di te 1345 e abbassate tanto a cervello a questo momento vivo alto 10.2 ottimo rispetto e viene da dire una cosa non si deve spaventare di questa forza di questa potenza e solo allenarsi a sentirla sempre di più adesso che è pulita rispetto a quelli che ha con cui a che fare tutti i giorni è speciale in questo momento sì nel cui ora non ci sono tanti come lei che è pulita adesso ok quindi lo diciamo in tutti i social no andiamo a dirlo in tutti i gruppi di telegram ma è sicura perché non è una battuta no 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 le adesso deve stare in questo stato per sé anzi più ci sta centrata senza come dire senza tirlo senza diffonderlo e più lei si può abituare a sentirlo e riprodurlo perché se lei e lei è sufficienza per sé basta e avanza ognuno di noi è sufficiente a sé non ha bisogno teoricamente non abbiamo bisogno di niente dall'esterno perché quando uno ha un colloquio di lavoro tendenzialmente poi lo dice in giro a cani e porci e va male perché allora a livello eterico apri proprio i canali vibrazionali allora soprattutto va male se quel colloquio di lavoro è perfetto per andare verso la tua consapevolezza evoluzione ok perché le interferenze lo colgono subito come via per interferirti per bloccarti ok invece se quindi è proprio l'energia anche con cui lo dici se lo dici e perché hai bisogno non ti senti sicuro e hai bisogno di esternarlo fuori per avere conferme e il conforto dall'esterno e supporto e sostegno no quindi sei già tendenzialmente debole e le interferenze lo prendono come occasione per interferirti e quindi poi va male se invece uno centrato e sicuro di sé va al colloquio come va va come deve andare deve andare ma lo sa da solo c'è non ha bisogno di esternarlo proprio immagine colore finale verde verde prato nota musicale finale do mese dell'anno finale maggio giorno della settimana finale mercoledì numero finale 27 figlio finale quello assente o quello presente mi sa tutti e due è come se dovessero tornare ad essere figli ecco fiamma di romina presente c'è sempre la fiamma grezza che ora si è illuminata e romina adesso si è girata e la vede è più consapevole o meno consapevole di lei grezza diciamo l'idea l'immagine che sia consapevole e tendenzialmente lei vorrebbe più consapevole sarebbe meglio uguale ma sa meno nozioni ma è più centrato sì esatto ottimo si compresa pagine finale del figlio presente si sente più rilassato meno con meno carico disconnettiti da tutto a tutti